Buongiorno e grazie per il tuo tempo. Sono Paolo Zalambani, responsabile e comunicazione di Naldone Biondi. Qui sono il signor Giuseppe Biondi, general manager della fabbrica. Buongiorno, benvenuti nella nostra azienda. Siamo una firma piccola, con 25 clienti. La firma è stata installata nel 1979, oltre 41 anni fa. Siamo in l'estate dell'Italia, in Lugo, Ravenna. Molto da Bologna, in l'estate di Bologna. Siamo specializzati nella produzione di standard e speciali componenti per i cilindri. Per circa 30 anni, abbiamo prodotto per le parti. In 2009, abbiamo deciso di essere presentato in mercato per essere in contatto con i cilindri, i riparatori, i riparatori e i riparatori. Iniziamo con il mercato italiano, poi, step per step, abbiamo cambiato la nostra attività. Nel momento, siamo presentati in 42 paesi, per servire 600 clienti, che preferiamo per due ragazze. Excellente servizi ed il livello di qualità di produzione. Una produzione che inizia a usare materiale di Europa, funziona interna, usando le macchine precedenti generazioni. in questo caso, abbiamo un esempio di un 3 terrestre twin-spindle turning center, built by Traub, con un 65 mm bar passaggio. Ci altri macchini hanno diverse caratteristiche, e sono preferito in relazione per il tipo di componenti, per la produzione. Alcune di queste macchini non sono controllata da l'operatore, come vedete, e lavorano 24 ore per giorno, ogni giorno. Questo è un indeczio V160. È un centro verticale turning con un contorspindle, con cui abbiamo combinato un sistema automatico e un sistema di download. In questo modo, il materiale cut è processato e viene fuori dalla macchina, prontata per essere preparato. Abbiamo un centro internazionale, che sono usati principalmente per produrare di un modo lungo o meno. Con questa macchina, per esempio, un prodotto come questa è produzione in 1 minuto e 30 secondi, con molto high qualità per metri, un'double grasso per la chie, un'arriata, un'arriata, un'arriata senza tracere di bar. Ovviamente, il nostro prodotto è non limitato a i prodotti, e lo vedete in questo caso. Il primo section describiamo una grande serie di componenti in millimetri. Quindi, parliamo di pizze, invece di pistone, plug, bashe, una grande serie di prodotti. In qualche page di nostro catalogo, quando necessario, describiamo il massimo di pressione che è indicato sull'arriata e come describiamo anche, i materiali sono usati solo per produrare le componenti In questo section include il nostro self-locking pistone, una soluzione che ha avuto la firma 7 anni fa, che ha avuto l'idea del self-locking nut, ma in questo caso, potete uscire 9-10 volte grazie per il particolare nylon che utilizziamo per produrare il ring. In order per facilitare l'operazione di assemblare abbiamo studiato le ronde e le torche sono descritti in nostro catalogo. Con questa soluzione, l'utilizzo di loctite, di 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 nota di st di 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 Il catalogo di prodotti standard continui con una piccola range di prodotti in inch che abbiamo fatto un po' anni fa, quando abbiamo iniziato a lavorare con Sud e Central America e Canada, too. Il catalogo continui con il nostro sistema di cushioning. Il funziona per interferenza. In un'altra parte, abbiamo inserito una fila di ruota per evitare il ruota e per evitare la produzione di debri, che possono compromisare la funzionalità del sirinder. Un'altra parte consiste in una serie di componenti in 316L, di stainless steel, che stiamo vendendo a manufattori di cilindri, per la industria dell'industria, per la nuova e del settore, e, in generale, per i contexti dove ci sono necessità sanitaria o condizioni corrosive. Alcuni anni fa, con uno dei nostri clienti, abbiamo inserito un componente in kit, quindi abbiamo inserito questo tipo di soluzione in nostro catalogo. In nostro catalogo abbiamo descritto circa 30 codi, ma possiamo chiedere la soluzione giusta per la necessità. Per aggiornare solo un codice, potete ricevere tutti i componenti necessari per preparare, per produrare cilindri e scegliere. In aggiornamento ai kit, seguono una serie di accessori. colori, porti, e parte di questo componenti non sono stati creati internazionalmente dalla società. Per esempio, i capi di protezione plastica sono chiamati, come le pinze di un'acqua, ma questo è ovvio. E per finire il ball joint, molti clienti chiedono la possibilità di comprare e quindi abbiamo creato una relazione commerciale con MacPower per avere in stock una serie di radial ball joints descritti nella ultima parte del nostro catalogo. In la prima parte di questa presentazione la firma è stata creata nel 1979. In 2019, abbiamo festeggiato 40 anni di attività e in questa occasione abbiamo realizzato la serie 40. È una serie di componenti per la construzione di microcylindri. Ora, alcune cose importanti. Abbiamo una quantità minima e potete richiedere per la firma la quantità che bisogna. Un'altra caratteristica importante di Naldoni Biondi è che tutti i prodotti standardi in stock sono disponibili. Quindi, in 24 ore, normalmente, prepariamo la vendita e siamo pronti a deliverare i prodotti. Questa è una caratteristica che fa una differenza importante tra noi e i nostri competitori. Ecco in breve chi siamo, cosa realizziamo, come produciamo e come ci piace relazionarci ai clienti. Offrire elevata qualità generale cercando di risolvere sempre i problemi senza mai crearne. Sì, lavoriamo in questo modo. I would like to thank you again for your time. I hope to see you soon. And thank you. Thank you so much. Have a good work. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto.